Ciao amici, ciao amiche, top! Bentornati in un nuovo video spesa, era da tantissimo che lo facevo video spesa e stavolta un video spesa super super sano voglio proprio vedere se avete qualcosa da dire perchè è un video spesa che abbiamo diviso in due quindi sul canale di coppia, se non l'avete visto andate a vedere che c'è un video spesa porcelloso quindi ci sono un sacco di leccornie perchè questa spesa, abbiamo fatto una spesa gigante abbiamo speso 337 euro e qualcosa e quindi mi hanno preso di tutto e quindi allora io farò questo qua appunto video spesa che è come leggete nel titolo sanissimo e Davide video spesa porcelloso, quello un po' più allegro così e quindi per tutti gli amanti del sano, verdure, frutta saranno contenti di questo video per tutti gli amanti del genere porcelloso saranno contenti del video spesa che farà Davide sul canale di coppia top vi faccio vedere lo scontrino siccome è chilometrico vi faccio vedere cosa abbiamo speso e le cose poi risalite voi insomma alle cose sane, alle cose non sane e insomma risalite voi alle cose sane e quant'altro io ve lo faccio vedere poi vi fate le ferme immagini top ecco questo è il totale 3,37 e 90 vi faccio scorrere le cose quindi vedrete tipo di tutto scusa me è chilometrico questo scontrino ok bene passiamo alle cose che abbiamo preso allora abbiamo preso le coste due ciuffi giganteschi buonissime a me non piacciono questo è comunque il prezzo si vede 1,678 kg i broccoli sono buoni buonissime sono praticamente due bouquet di broccoli 1,03 euro cioè proprio pochissimo è un sacco di scoti da questa lunga buonissima la rucola questa la mangeremo stasera questo è il bustone da 200 grammi uova le uova sono sane poi bisogna vedere uno che usano e fa delle uova però le ho collocate nel video spesa sano perché comunque le uova sono comunque sane 10 uova da allevamento a terra questa è lunga poi le ali di pollo queste qua 1,80 euro mentre queste 2,07 euro poi biscotti della galbusiera integrali ricchi di fibre questi sono di mia suocera comunque è una cosa sana mangiata con parsimonia quindi l'ho collocato nel video spesa sano poi le mele 2,78 euro per 1,876 kg poi abbiamo le arance guardate queste sono quanto di peso 2 kg le banane queste ce ne sono 5 banane pagate 1,46 euro ce ne era un terzo di ali di pollo 2,11 euro fazzoletti sono utili anche per in casa insomma poi poi della danone l'activia questo qua 0% di grassi questo è alla pesca e questo qui è al mirtillo in pezzi io mangio questo mia suocera questo e come vedete comunque lo yogurt è una cosa sana lo yogurt perché comunque non è una cosa elaborata e poi l'activia top 4 buste di formaggio grattugiato questo qui è l'ho collocato nella roba sana perché comunque con una pastina un minestrone il formaggio sopra ci deve stare per forza e quindi 4 buste di formaggio grattugiato biraghi 100 grammi a busta allora abbiamo preso un po' di chalde del caffè allora questa è espresso decaffeinato questi sono quelli originali dolce gusto la bonduelle le coccole queste qua sono praticamente 300 grammi sono 8 tortini di spinaci fagioli e broccoli questi sono molto sani perché fatti al forno senza condimento senza nulla sono veramente buoni e hanno solamente 83 calorie quindi questi sono buoni e sani della findus il minestrone che io adoro il minestrone mi piace mangiarlo così oppure con il viso oppure con la pastina però preferisco mangiarlo i dita lì insomma oppure preferisco mangiarlo con così com'è normale con le verdure in pezzi mi piace tantissimo e questo è un chilo e 100 ed era in offerta poi questi qui invece è la catalogna 1,84 euro sono sempre due ciuffi di roba così poi peperoni gialli ovviamente sono da lavare bene bene poi peperoni rossi lattuga iceberg due ceppi le zucchine questo 1,55 e quest'altro da 1,43 poi le carote queste qua le mangiamo tantissimo questa confezione da un chilo e le carote comunque sono buonissime fanno benissimo e a me piacciono molto altre mele queste qua sono mele renetta queste qua le mangia particolarmente la nonna la nomina poi mega scorta di pasta allora la pasta io la reputo una cosa sana mangiata in quantità giusta di tutto fa il condimento però comunque in una casa la pasta ci deve essere semplice due pacchi di cosilli due pacchi di mezze maniche rigate due pacchi di tortiglioni due pacchi di penne rigate questa era spuntatissima eh per questo che abbiamo un po' citato abbiamo fatto la scorta due pacchi di tofare tofarelle tofarelle che sono tipo le sono conchiglie tipo allora la polpa mutti che era stra in offerta tre lattine di polpa mutti e sono da esattamente allora 400 grammi a lattina ovviamente pomodoro italiano servizio delle iene non c'è bisogno che dico altro vero? top poi la simmental questa mi piace tantissimo ha solo l'1,5% di grassi ed è buona da mettere nell'insalata con i pomodori veramente buona la simmental poi spaghetti barilla questi qua hanno in offerta 79 centesimi mi ricordo benissimo da un chilo e quindi inizialmente ho preso quelli della vogliello poi ho visto che questi qua costavano così ho lasciato giù quelli della vogliello e ho preso questi qua da un chilo e poi numero 5 super top barilla farina barilla di grano tenero 00 poi abbiamo preso due confezioni di olio di mais cuore questo qua è un olio diciamo il più conosciuto olio tra tutti i dietetici questo qua praticamente ha acido linoleico che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo di colesterolo non ha problemi nessuno qua però l'abbiamo preso appunto da mettere a crudo sopra l'insalata sopra le cose poi Davide non piace l'olio extravergine non so perché e solitamente è una cosa orrenda lui prende l'olio per friggere per condire le cose fa malissimo e allora abbiamo preso questo e così almeno non fa male per friggere e comunque l'olio cuore è famosissimo per essere un olio dietetico altre capsule queste qua espresso barissa sempre da dolce queste qua sono originali perché stavolta non siamo andati a Lidl perché eravamo stanche poi questo invece è un compatibile ginseng e caffè questo qua marca castran crastan da zuccherare 10 capsule compatibili con la macchina dolce gusto poi il cappuccino penso che le capsule del caffè siano finite questa tazza guardate quanto è carina e pucciosa questa qui è per Davide quando beve il caffè guardate qua c'è tipo il il vampiretto adoro mi piace troppo e questa qua è per Davide voglio prendere una serie di queste tazzine molto pucciose dei minion il pettine questo qua è il pettine per la nonnina che l'ha richiesto è un pettine a coda semplicissimo allora ora passiamo a tutta roba che serve per per la casa giusto come dice mia suoccia stavo perdendo le parole che serve per la pulizia personale per la casa per la lavatrice ah volevo giusto aprire un piccolo parentesi se non vedete il detersivo dei pavimenti è perché noi quello lo prendiamo al mercato e poi abbiamo anche l'h2o quindi no chi se lo chiedesse però gli sgrassatori a volte facciamo scorte non stiamo sempre a fare di video spesa visto che anche su questo ci sono state polemiche non è che io mi devo giustificare no vabbè non è che io mi devo giustificare però lo diciamo lo stesso top allora io ho preso questo qua non per la vari denti sì ovviamente per la vari denti ce l'abbiamo ho preso questo qua perché è bianco e quindi lo uso perché dovevo pulire un paio di scarpe le Nike di Davide e quelle lì non le metto in lavatrice come le altre e ho visto un tutorial su youtube come pulire via le macchie dalle scarpe col dentifricio se poi vi può interessare questo tipo di video ve lo farò comunque questo per le scarpe di Davide poi l'infasi detergente intimo questo qua con antibatterico freschezza poi le salvettine queste sono della nonna marca Lilla con apri e chiudi poi questa qui è la crema per me della Geomar anticellulite questa qua è contro gli insettismi della cellulite resistente riduce i cuscinetti adiposi è ottima e non so quanto è questa è 200 ml ottima poi della Garnier ultra dolce shampoo questo qua al cocco e all'orevera è buonissimo un profumo pazzesco e ho preso anche il balsamo non uguale ma all'altro tipo adesso vi faccio vedere e poi ho preso il balsamo questo qua allora volevo prendere anche lo shampoo di questo però non l'ho trovato c'era solo questo questo qua miracolo ho trovato l'ultimo perché questi prodotti sono ottimi poi al cocco è un profumo pazzesco e questo qui è la confezione quella più grande infatti è da 400 ml e questo 400 ml poi abbiamo preso proprio una cosa esagerata di ammorbidenti vedete io lo sapevo che non era quello della Lenore al cocco sapevo che era questo qua infatti questi qua sono i miei preferiti vaniglia e cocco qualcosa di top comunque abbiamo preso della fabuloso che sono in offerta l'essere lunga 60 lavaggi un litro e mezzo allora uno alla vaniglia e orchidea poi questo qua l'abbiamo preso per lavare i vestitini del bambino è il mio nipotino che sta per arrivare quindi si stanno già lavando le cose e niente quindi è di polio all'ergenico poi questo qua che piace tantissimo a mia suocera è magnolia e lavanda l'è fissata con la lavanda e poi due al cocco adoro top poi della vanish abbiamo preso due di questi smacchiatori allora questo qua è per questo è per i bianchi e questo è per i colorati sono sincera a me non mi piace non non impazzisco per il vanish io preferisco un altro che adesso vedrete dunque questi li ho presi mia suocera perché ho detto voglio prendere mi piacciono ho preso l'itersivo questo qua nuovo della lisoform detersivo igienizzante smacchia e igienizza doppia azione 25 lavaggi la candeggina dell'estellunga questa qua per i colorati ed è buona come candeggina per lavare i vestiti poi della vidal colorosa non c'era se no avrei preso quello rosa pacchi da due c'era questo quello verde e uno marroncino mi pare comunque questo qui quello da profumo di talco buonissimo ce ne sono due per 750 ml ed erano scontati questo è il mio amore il mio amore segreto lo smacchia tutto questo rimuove tutte le macchie pure quelle vecchie secche proprio io adoro veramente veramente qualcosa di pazzesco quando l'ho scoperto non ho più fatto a meno e questo è un 400 ml poi della Ava abbiamo preso detersivo lavatrice Ava come lava per bianchi e colorati questo è un 36 lavaggi era in offerta veramente prezzo stracciato a 2,60 euro 2,46 euro una cosa del genere e questo è la profumazione ce ne erano due uno questo qua verde e la confezione rosa stranamente non l'ho presa la confezione rosa perché la profumazione sembrava di fiori puzzolenti quindi non l'ho presa e abbiamo preso questo qua tropicale che veramente ha tipo un profumo fruttato veramente ottimo abbiamo preso uno due e tre dire che con l'interessivo della lavatrice è morbidente e quant'altro dire che siamo a posto per un bel po' poi per Davide e mio suocero la Schium Gel da barba perché lui la schiuma non gli piace della Gillette questo qua poi il gel dei capelli questo qui della L'Oreal Studio Line in PhysiFix vabbè comunque fissaggio iperforte non so io non ho idea di cosa sono queste cose comunque 150 ml poi gambaletti questi qua sono le mie suocero sono della Cabify in microfibra poi come ultima cosa ho preso i fazzoletti abbiate di chi sono questi quelli normali sono per tutti questi qua sono bucciosi sono per me ho preso quelli dei Mignon e poi questi qua delle LOL che sono le le bambolette LOL sono pucciosissime carinissime che quanto sono carine e niente basta questo era la video spesa spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia piaciuto compagnia e sicuramente ci saranno comunque commenti che diranno non è una spesa sana bla 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 ma chi se ne frega perché comunque questa è una spesa super sana top io e ragazzi tutti i nuovi iscritti iscriviti sempre un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ah ricordatevi di guardare anche il video spesa di Davide eh top